...che celebrano una bellezza elegante e affermata in una sapente altimura trapassata il futuro tra la generalezza e la torrezza, tradizione e l'ocamore Don Keele, per attingere la metà e l'aspirare l'alto ha un modo di essere più intelligente e sensuale ovvero come la lenta, sottolineano tutti gli istanti dei primi è il ton che fa la differenza e che dà una luciana creativa e un voto nella bellezza è Dan Sobrials 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.